La scuola delle Micharelli all'Aquila chiude per Covid. Il sindaco Pierluigi Biondi ieri ha firmato l'ordinanza di chiusura dell'intero plesso gestito dalle suore. I casi non sarebbero tanti, una decina, ma ramificati in diverse classi. Allora, per evitare un focolaio di dimensioni ben più importanti e per tamponare tutti, si è deciso d'accordo con la ASL di assumere il provvedimento. Una decisione, insomma, all'insegna della cautela. La quarantena scatta da oggi durerà sino all'11 dicembre. Il dato più importante riguarda gli isolamenti, circa 200, tra alunni, docenti, personale addetto alla mensa e operatori scolastici. Ieri la ASL ha eseguito già alcuni tamponi, oggi la parte restante dalle 11 alle 14 e dopo la quarantena avranno tutti un nuovo tampone. A seguito degli esiti si deciderà il da farsi. La ASL però non è allarmata, una situazione che per loro era prevedibile e che non desta particolari preoccupazioni. I giovani ora sono i più esposti. Per il ricovere la situazione è invece stabile. Solo sette fanno riferimento alla zona dell'Aquila, mentre in isolamento ci sono circa 380 persone. Numeri lontani dallo scorso anno, segno dell'efficacia dei vaccini, ma la guardia va tenuta alta in un momento in cui molti amministratori stanno decidendo pure per l'obbligo delle mascherine anche all'aperto. Al momento la situazione non è preoccupante perché anche se i numeri continuano a crescere, c'è sempre il dato che va tenuto sott'occhio e quello dell'ospedalizzazione, che è molto contenuta. La questione delle micarelli, come da norma, Covid è il Dipartimento di Prevenzione che fa la proposta al Sindaco e poi dispone la chiusura. Si tratta di un elemento di precauzione, io l'ho detto più volte come la penso, sul fatto che per come la vedo io bisognerebbe mettere l'obbligo vaccinale a tutti i maggiorenni per consentire ai ragazzini di fare scuola e di per la loro socialità, contagiati o meno, perché il tema è quanto un contagio possa diventare malattia vera con ricadute concrete. Credo che rischiamo di contenere il contagio, ma di consegnare intere generazioni a un ritardo nell'apprendimento scolastico che potrebbe diventare molto preoccupante in futuro. Sindaco, molti amministratori stanno decidendo per l'obbligo di mascherine anche all'aperto. Cosa ne pensa? È un provvedimento che abbiamo adottato anche noi in una fase in cui non c'era un antidoto alla malattia. Oggi ce l'abbiamo e si chiama vaccino. È aperta la piattaforma anche per gli under 40 e quindi l'immito è tutti a vaccinarsi. Attraverso la vaccinazione si impedisce che il contagio diventi malattia vera con ricadute serie.